Nella cosa ok Abbiamo altre rotelle Pazze si Ok No minchia va al contrario Vabbè anche se va al contrario No minchia raga mi urta Mi urta mi urta Mi dà un fastidio incredibile Ok Allora l'as è scammato Frate frate Bro il mio blocco Ok Allora possiamo provare A craftare un panino E vediamo ragazzi che succede Ok Se va sotto è fatta è cassa Oh Easy Easy Al bacio Perfetto Dobbiamo alimentare i braccini Quindi Mettiamo Rotelle Qua Qua Ok Perfetto Ho bisogno di blocchi belli Per forza di cose Li craftiamo subito Tu 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 Stunter Tu Stuc Ragazzi dovrei fare tipo un video Tutto doppiato da me Se l'abbiamo atto link una cosa Te la dana Grazie mille per i quattro mesi Raga Sì E parte l'hype trenino Ok Allora Dobbiamo iniziare adesso A setappare un poco di roba Adesso c'è la parte proprio più interessante Iniziamo con lo stressometro Per capire Proprio A livello di stress Quanto piglia Allora mettiamo Ah mica proprio al contrario me l'ha messo Questo qui è lo stressometro si Ma porco Allora No dobbiamo aumentare la velocità 2000 3000 3000 6000 Resiste Raga se resiste è cassa Raga sta resistendo Abbiamo 8k disponibili Il che è tanta roba No no non mi piace No raga Soffoca Guarda Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa No raga Sapete perché non ce la fa Perché questo fa 256 E questo qui Consuma 240 C'è una particolarità C'è una particolarità Che stiamo usando I cavi in rame Che hanno Praticamente Una dispersione Quindi qua Noi arrivano 240 Puri Che arrivano tipo 230 30 Capito E quindi non ce la fa Questa velocità Il che è un grosso Peccato Per fare ciò Noi dovremmo portare Un secondo Cavo Di Sostegno Diciamo Per tutto Però qui resiste Non c'è bisogno di potenziare Il boiler Il boiler va Più che Bene Comunque Vediamo Allora Sembra molto veloce Tutto Oh mio dio Guarda quanto Speed as fuck Ok Qua ragazzi Basta mettere Questo E va tutto Dobbiamo configurare Tutti i braccini Ok Allora Raga Arrivato il momento Configuriamo I braccini Con Allora Destra Quello di destra Prende sempre Quello davanti Ok Quindi Sarà il Destra fa il centro Ok Quindi tipo Take Così Ed è uno Questo fa Letteralmente Da qui Take Piazza Piazza E va qui E va qui Questo No Prende da qui E va qua Questo prende Da qui E piazza qui E qui E va qua Questo Piazza No Mette qui E prende da Qua E va qui Piazza qui E questo Prende da qua Quindi qua Ho sbagliato Ho sbagliato Porca troia Aspettate Raga Ok Ok Quindi questo E il cacao Quindi Tu Prendi E piazzi Ok Tu piazzi E prendi E metti qua No L'ho sistemato L'ho sistemato Ora li ricontrolliamo Tu Invece Prendi E piazzi Qua Qua Tu piazzi Qui Ma prendi Da qua E tu Piazzi Qua E prendi Da qua Controlliamo Giusto Ok Giusto 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 Sistemato Ok E i bracini Ragazzi Sono ready Ce la farà Il sistema Raga Qua Sta andando Qua va Ok 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 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Eppure Abbastanza veloce Serve soltanto Il fatto che Butta gli oggetti Fuori E la farm Di cacao Ok Che Manda il cacao Nella farm E fine Manca solo Questo Il nastro vicino E il cacao Esatto Dobbiamo fare Gli altri Funnel Raga Perché Li abbiamo Finiti Ora Eh sì Dobbiamo fare Gli altri Funnel E fare Poi la Zona Dove Mettere Molto Quanto Ho messo Il gearbox Male Ah cazzo È vero Non gira La sega Ah no Perché Sono Un hub Aspettate Devo Mettergli Il Orco Raga Grosso Problema Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Prendono Tanto Raga Serve Doppio Motore Serve Un Doppio Motore Doppio Motore Per Forza È L'unica Dobbiamo portare Minchia Possiamo fare due output da qui eh Mannaggia che io sono tipo Folle E devo fare le cose perfettamente simmetriche Vabbè che in realtà va bene anche qui Ok Raga Tentiamo una cosa Tentiamo il doppio motore pazzo sgravo Ok Secondo me ragazzi esploderà tutto Esplode Esplode tutto Esplode Va tutto a puttane Ve lo dico raga Va tutto a quel paese ora Ok Ok Aia Allora facciamo una cosa Siccome sono appunto Maniaco dell'ordine Questo Va qui Che va Nel cosetto qua Non so che succede là sotto Raga Non lo so sinceramente E questo Va qua Ok Se mettiamo qui L'output Deveva andare Perché vedo tutto Fermo Esploso un motore Ragazzi esploso un motore Lo facciamo andare Allora Questo Ragazzi In positivo Questo in negativo Non dovrebbe esplodere Non dovrebbe Non dovrebbe Oh Fuziona Fuziona Si blo- No Però ecco Se abbasso la velocità Si esplode Non ce la fa Allora Secondo me Così ce la fa Ok Un attimo ragazzi Sta No raga Ho capito Si è Si è scaricata La batteria Perché Entra con uno Raga Dobbiamo Mettere sostegno Morale Qui subito Mettiamo un altro Mettiamo Questo Un altro di questo Attacchino Però Questo Io lo facciamo Dedicato Aia A quel A quel Coso Quindi tipo Qui Che ragazzi Sarà un bordello Perché naturalmente Questi cosi Buttano massimo 256 Quindi Se parte da qui Uno Non va C'è capito Fa Lo strozzo Il sistema Porca Troia Ma Dovevo fare Lo youtube Dovevo fare L'elettricista In che ragazzi Lo vedo Là sotto Che è un po' meme Però sta andando Qua siamo Uno chill Allora Potrebbe Ricaricarsi Questo Ragazzi È in No Perché sta Raga Perché sta Facendo Fumo Perché sta Facendo Fumo Lo vedo Un poco Troll Ha Ha qualcosa Che non C'è C'è uno Ok Ragazzi Allora C'è questo Che Praticamente Fa il meme Cioè Vedete Non ce la fa Non ce la fa Questo è tranquillo Quindi noi cosa Facciamo Nessun problema Ho finito i cavi Posso attaccare Questo No Appoggi Copper Ole Si Io faccio Ragazzi Piacere Mi chiamo Emerald Tesla Penso di aver risolto Il problema Sale troppo Di giri No E si 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 pianta E perché Sale troppo Di giri This Is Elon Musk Raga Così dovrebbe andare Vediamo Ragazzi pulito Pulito Doppio motore Gira tutto Ci siamo Ci siamo Mamma mia Di casino Che c'è Però è bellissimo È strabello Quasi tipo Porca Cazzozza Qua dobbiamo Catapultare Prima possibile Ok Adesso Dobbiamo Far andare Le belt Per le belt Direi che Arriva il momento Di cambiare Velocità La corrente Non ci serve più Per ora Mi sa Quindi Possiamo un poco Di Oggetti Tipo Questo pane Ok Allora Mi serve La rotella gigante Eccola Allora Se questo Va qua Questo Andrà Ok Questo Ragazzi Lo mettiamo Praticamente Con Uno Shaft Qui Gli mettiamo Questo Cadroia Mi so Cagato In mano Miche Mi sembra Che è esploso Tutto 12 Giusto Signor Banana Purtroppo Non lo so Io Non so Se si è aggiornato Già adesso Io vedo 988 Su 1000 Signor Banana Non siamo A 1000 Mi sa Io Non lo leggo Raga Qua sotto Che c'è scritto Sotto di me Perché io Dalla dashboard Vedo 988 Ma non so Se si è aggiornato E la preview Non me lo fa vedere Troppo piccolo 980 Eh no Signor Banana Mi sa che sono Scaduto un poco Di sabone Prima Era prima Signor Banana È arrivato Il ritardo Signor Banana Non siamo Non siamo Non siamo a 1000 Eh all'inizio Quando ne mancavano 12 Per le 1000 Ora ne mancano 12 Siamo Banana Mi scusi Lei vuole scammare me Allora Devo portare Ok Allora Così Non va bene Al contrario Ok E questo sta andando Raga Faccio gli altri Dipot E Let's go Mi stai schiammando Ma Raga Ho ragione Io O il signor Banana Era 12 All'inizio Cioè Se poi diventano Di più Io devo arrivare A 1000 Eh L'obiettivo È 1000 Cioè È come se Tipo C'è Una Che ne so Una carta Di Pokemon Che vale 5 euro E dico Te la vende 5 euro Tu mi dici Boh vabbè Ok Dopo due anni Vale 500 Torni Vedi 5 euro E vuoi la carta Non funziona così Non funziona così Voglio sondaggio E noi facevamo il sondaggio Facciamo il sondaggio Ok Ok Nuovo sondaggio Chi ha Ragione L'Emerald Bellissimo E Luminescente Signor Banana Pelato Alle due minuti Ragazzi Ragazzi Scegliete Ragazzi Vi ricordo Chi è lo streamer Vi ricordo Chi è lo streamer Vi ricordo Chi ha il potere Di ban Vi ricordo Che piango Allora Torniamo a noi Andiamo a craftarci In tanti Cosi Ecco Brava Marta Brava Brava Ecco Ecco Allora Dobbiamo Fare Dov'è Io non ti voto Oh Come Come osi Ragazzi La mia Ragazza Mi Mi vuole Mi sta boicottando Ne voglio un bot Di funnel Veramente Ne voglio tipo 52.000 Le sub Erano 988 Ancora prima Delle 12 Del signor Banana Ma non Fermi tutti Allora Fermi tutti Scusatemi Signor Banana Lei quando ha donato Le sub Ora Quante sub Mancavano Cioè Erano 988 Sub Perché se sono 988 Sub Attenzione Quando ha donato E' il contatore Che non si è aggiornato Allora A me raga Interessa Arrivare alle 1000 N Numero Sub Per arrivare a 1000 Andate a controllare Ragazzi Il VOD Prima Delle sub Droppate Tipo Due minuti Prima Un minuto Prima Vedete Un attimo Quante sub Mancavano Io ho visto Che erano Tipo Sulle 70 Ricordo Il sondaggio Mi sa Che è stato Interpretato Mal Allora Perché le persone Pensano Che appunto Ne mancavano 12 Io dico Che non Ne mancano 12 Per Sono Grazie mille Per i Bittarelli Non sto Scammando Non sto Scammando Io prima Ho detto 12 Sub Per arrivare A 1000 Siamo A 1000 No Erano 976 Quindi Mancavano 24 Sub A 1000 Non 12 Allora È giusto Ciao Diego Ciao Allora Regà È rio di momento Attivo Se tappare La roba Adesso Allora Qui C'è questo Uno alla volta E questo Due alla volta Ed è il Grano Due alla volta Ok Perfetto Vabbè lo mettiamo a fare Ragazzi Sti cazzi Diventa Bom meal Ok La cosa che mi preoccupa di più ragazzi È la farm di cacao Non la vedo molto sveglia Serve tanto bom meal Per forza Inverti quel funnel Non l'ho invertito Ah questo Giusto 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 Ok No no Io non scammo Io non scammo Il ticket Della crescita Delle cose È di 1.6 Che vuol dire Cricco Aspetta Spiegati meglio Clip La live Dove le chiedo 12 E dico 12 per arrivare a 1000 Il mio obiettivo È arrivare a 1000 Sub E non si discuta Allora Sto cercando Ah cacchio è qui Ok Dobbiamo configurare No questa l'abbiamo configurata Sì Sì Questa è un'altra catapulta Allora Una E due Non hai messo il dipot Per i biscotti Non c'è bisogno Là sotto Non c'è bisogno Non c'è bisogno No Si è resettato Olè Perfetto Minchia Sapete che è veramente lento Sono entrato Pochi minuti Fa nella vanilla Certo Il lab centrale Eh lo so Lo so E certo È ovvio 1.6 Ah È 1.6 Eh cambio subito Allora Immersive Ok 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 fatto No Nessun trucco Né niente Signor Signor banale Io non l'ho scammato Allora 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 Adesso Adesso Dobbiamo portare Soltanto Il cacao Da qui A qui A qui Eeeh Eeeh Le di pertenze Non lo so Non lo so Domenica sera Nasse 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 Le di pertenze Voi che dite Allora secondo me Fare il nastro trasportatore sarebbe anche figo Perché al massimo si potrebbe anche prolungare di più questa Cazzo mai Andiamo di nastro trasportatore E li coloriamo Li coloriamo naturalmente Andiamo allora in maniera Molto tranquilla di nastro trasportatore Va benissimo La chat ha scelto Questa è la cosa bella di fare le robe in live Quindi si va E a questo punto io dico una cosa Su Cioè togliamo tutto questo Che inutile Questa posiamo qua Tiriamo questo fino al limite massimo Di minecraft Ok Olè E dobbiamo portare praticamente questo Allora facciamo Così Qua E allora aspettate No ho un'idea migliore Ce n'è un'idea più carina Che se no ragazzi Mi urte il cervello Ecco Perfetto Si è rotto Olè Uno E uno due Ok 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 raga Allora Qui sta andando Bisogna Bisogna soltanto Alimentare questo Che spero Ovviamente Che funzioni soltanto Con questo Ed è fatta E vaffanculo Ma che pal E che volevo farlo carino Ma ancora si semi Ma basta Sono stunnato Sono confuso Puoi fare il nostro Trasportatore Inclinato Di 45 gradi Cioè Verso l'alto Intendi Che va verso l'alto Sì sì Quello lo so Quello lo so No Volevo collegare In modo carino Questo Ah ma Aspetta Ah Gli posso far girare Cioè Quindi potrei far Rifare Non so che sto Combinando Non so raga Che sto facendo Ve lo dico Sono serio Volevo soltanto Collegarlo Decentemente E mi hai ricevuto Anche tu L'email Di Twitch Stanno annunciando Il nuovo Aggiornamento Non penso Non penso Non penso di aver Di aver Ricciuto nessun'email Signora banale È un grandissimo Figlio di mignotta La deve smettere Le bloccherò La mia email Che lo dico La metto Nello spam Volevo collegare In modo Figo sto coso Bastava Bastava lì Un blocco Ma è bruttissimo Raga Madonna Aspetta Aspetta Dimmi che funzioni E diciamo Che un po' Si gode Edz Ma che bello Ho fatto così Ok No 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 Ma che minchia fai No mi si desinca Mi si desinca Ora Aspetta Ah no ok Non è stupido Raga Basta Un Funer qui Ed è fatto Oh Manca l'ultima catapulta Eccola E qui È perfetto Perché ragazzi Guardate Guardate Dove 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 Questo Si toglie il blocco Qua sotto Uno Due Tre E Sbam Quindi La Configur No raga Ah perché L'ho messa qua Di lato Ah ok 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 mi sta prendendo Un colpo Un colpo Minchia ragazzi L'ho fatta Decentrate È finita Tutto Minchia ragazzi Tipo infarto Subito Eh sono deficiente Di averla messa qui Mannaggia Se la mettevi in avanti Era easy Eh vabbò Olè Mettiamo qua E qui Adesso Bello Ok Ok Ragazzuoli Io appena giro Questa leva Part Vediamo Che succede Bam Olè Part Part L'ha già messo Ok Eh devi craftare Devi iniziare a craftare Serve il cacao To Dobbiamo farmare Cacao To No To To No aspetta No 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 Perché Oh No perché Va al contrario No 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 Aspetta 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 Cambia No Cristo Mi sono pure Sotterrato Allora Calmi tutti ragazzi Qua abbiamo un grosso problema Ma la roba qua sotto funziona Minchia lo fa una alla volta Perché sta girando al contrario Allora C'è un grosso problema In tutto ciò C'è un grosso problema Aiuto Allora Allora Se vado a mettere questo qua Ma Oh dovrebbe Andare Ok 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 Va 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 Funziona 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 No va benissimo così Va benissimo così Allora Ragazzi Manca l'ultima parte Ora Il Magazzino Di tutto quanto E Abbiamo Qua Un pochettino di volt Non sono tantissimi Ma Vanno per ora bene In questa zona Noi ragazzi Metteremo Tutti I volt Tutti I quali andremo a mettere E iniziamo Proprio Facendo così Guardate Da qui Da questa linea Mettiamo Il primo Che fa Tipo Così Così Ok Ok Questo qui Raga È Il primo Volt Come funziona Tutto quanto Saranno Tutti Impilati Ok E E Qui abbiamo Un poco Di spazio Vediamo se Riusciamo a Combinare Ora Che facciamo Noi Direi che Possiamo Tirare Ancora Delle belt Quindi Sempre Dove 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 Questo Lo mettiamo Qua Per ora E Per ora Qui Sbam Sbam Oddio Così però È bruttissimo No Non mi piace Non mi piace Lo facciamo Altezza Zero C'è Altezza Terra Quindi Da qui Tiriamo Per ora Qua Quindi Andiamo a mettere Dove Il Funnel Al centro Che porta Verso L'interno E qui Facciamo La cosa Che consiglio Del ragazzotto Di prima Ovvero Clicco Dove c'è scritto Puoi farlo Di 45 gradi Verso il basso Cosa andremo a fare Quindi Allora Non so come funziona Di preciso la roba Di 45 gradi No Mi sa Che deve essere Qua Così Olè Vabbè E a sto punto Raga Ok Prendiamo questi Mettiamo Qua Qua E sta andando Ce l'abbiamo Quindi Se qua Finisce I biscotti Vanno Già Qua Dentro Spam Ed è fatta Raga Ma non Finisce qui Dopo facciamo Un'altra Chicca Buonanotte Buonanotte Signora Buonanotte No no Ce la fai In tempo Ti dite che non riesce Proviamo Ce la fai Ce la fa Ce la fa Allora Adesso ragazzi Basta Mettere lì Oddio Beh raga Rinizia la produzione Ok Faccio andare Avanti la produzione E come vedete Sta andando Ecco Raga Vanno Sta andando Abbiamo la produzione Ragazzi Di biscotti Uno solo di grano Due Raga Ecco che vanno i biscotti Mo Ok Sì sì Era l'uno di grano Non buono Minchia Si sta Oh no Raga Troppo grano Troppo grano Stiamo farmando Troppo grano Sono Ah Perché sono queste qua Che erano pienissime Ok Ok Ah infatti Ha svuotato tutto Per quello Ah beh Qui ragazzi Iniziamo adesso Poi A fare Con 32 A botta E via Allora Direi che possiamo Proverla ad aumentare La velocità del nastro Adesso Meno 28 Vediamo Ok Ragazzi La farm Di biscotti Sta funzionando Ci siamo Dobbiamo soltanto Migliorare La farm Di cacao È l'unica È l'unica Di essere abbonato Crostino Serve più grano Ne mettiamo Quattro 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 a botta E vediamo Ragazzi C'è proprio C'è tanto grano E quelli C'è Mi sa che Mettiamo 64 Prima del lancio Ok E Serve Un botto Di Di questo Aumentiamo la velocità E questo È un problema Allora Qui sta andando Soltanto che Dobbiamo fare in modo Che si va a farmare Ragazzi Più roba Intanto Intanto ne approfitto Prendo un poco Di cacao Per colorare Appunto Le belt Col colore giusto Olè Perfetto Mi prendo Mi prendo un bel Coloretti Colorante Colorante giallo Olè Così qua Andiamo Anche a mettere Questo Questo Olè E qui ragazzi Guardate che comunque Va eh Va che è in piacere Guarda Peccato che Non arriva Abbastanza Cacao Dropperei Due di cacao A sto punto E forse Ce la facciamo Perché mi sa che I bracci sono Molto molto Veloci Ok Cacao Sta arrivando Eh La farm È piena Proprio Tantissimo È strapiena A parte Che si è Buggato Sopra Allora Anacerto Dovrebbe Sbuggarsi Comunque Per forza Di cose Ah Jacopo Grazie Mi per il premio Nella ciurma Bro Benvenuto Benvenuto Sì ma Eh Ragazzi C'erano 64 di cacao Bloccati Bisogna Rivederlo Un attimo Questa cosa Bisogna Per forza Rivederla Però Sta andando Regà Qui la produzione È straveloce Guardate Oh Regà È pazzesco È troppo Bello E allora Se valutiamo Che il grano È troppo Che l'hai lanciato Ancora No ma Sta consumando Pian piano Regà Eh Diamogli Il tempo Diamogli tempo Diamogli tempo Secondo me Se facciamo Così Chiediamo Un pochino Di slot Va che È una meraviglia Olè Vedo Vedo robe Che volano Allora Una cosa Figa Sarebbe Ragazzi Questa Allora Ne rimangono Ancora Quattromila Quattrocentonovantasei Ora Non per dire Ma noi potremmo mettere Altri braccini Di qua E abbiamo Altri Braccini Noi potremmo Metterne Altri Qua 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 Così E Secondo me Può essere Un'ottima cosa Facciamo così E prendiamo Poi I crafter Quindi Sempre La belt Sotto Quindi Qua Tipo La belt Che va A ricollegarsi Poi tipo Lì Per forza Quindi Tipo Una roba Così E Così Questo Va Acqua Stiamo Raddoppiando La velocità Così Farmi Di un Mille di Biscotti E ci Siamo Allora Capiamo Un attimo Ormai I crafter Ne abbiamo Ancora No Non mi Sembra Di Vederli Ah si Ne abbiamo Tre Ne abbiamo Tre Ne abbiamo Tre Ok Io già posso Configurare Che prende E mette Qua Qui Che prende E mette Qua E mette Qua Qui Vi metto Già Anche Una Rotella Bisogna Prendere La velocità Da lì E la prendiamo Da qua sotto Quindi Vi facciamo Andare Questo Qua Ok Ok E già Praticamente Inizierà A craftare Vabbè Manca Sempre Naturalmente La Roba Di Questo Cioè Già Così Ecco Già Mette Ok E Abbiamo Altri Braccini Già Altri Braccini Raga L'unica È la Farm Di Cacao E Stralenta A parte Vedete Qua Siamo Bloccati Altrimenti Di Cacao Mannaggia Facciamo Che Questi Qua Girano E Li Possiamo Far Arrivare E Oddio Fin quando Si può Allungare Questa Perfetto Ok Mi sa Che va Bene Oddio Così Non mi piace Va No Non mi piace Non mi piace La facciamo scendere Già da qui Ok Olè Questo va Qui Ah no 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 Frate Eh porca Tro Vediamo No va Al contrario E Non può Andare Al contrario Cioè Non deve Andare Al contrario Se metto Qua Perfetto Perfetto Dobbiamo Dobbiamo soltanto Fare Andare Adesso Queste Qui Questa Belt Qui Deve Andare No No Si è ciucciato Un oggetto Vabbò Ma se tipo No No Praspetta Posso fare E Va Al contrario Che Palle Sbagliato Braccino Come Sbagliato Il primo Braccino No Regà È giusto Perché Hai sbagliato Ma Se ha messo Questo qui Correttamente Il primo Non può essere Sbagliato Ah Perché È Cacchio Take Olè Sorry Raga Eh Ho Settato Male Infatti Dove Sento Far Muovere Sto Cacchio Di Nastro E Va Al contrario Raga Io piango No va sempre Al contrario Problema Problema risolto Va benissimo Va benissimo Lo stesso Dobbiamo ora Soltanto Alimentare Questo Che in realtà Fargli prendere La Eh che Casso Eh va Ok Bam Raga Così la farm È ancora Più Grande Ancora Più Grande Allora Io ho già messo Che esce Due di cacao E quattro Di qua Il problema È che Ora Ma perché Stanno le rotelle Dentro Ma che Casso Il problema Ragazzi Che qua È full La cesta Di grano È pienissima La cesta Di grano Mi sa che qui La produzione Di grano È eccessiva Rispetto a quella Di cacao Devo trovare un modo Per far farmare Più cacao Mi sa Che faremo Una bellissima Cosa Metà farm Di questo Diventerà farm Per il cacao Sì Farm Di bombe Per il cacao Allora Minchia Regà No Sono Sono tipo Pienissimo E metto Un attimo Ragazzi Che qua Non mi deve Uscire Più Roba Smonto Questo Smonto La catapulta Ok È l'unica Cioè Non c'è Alternativa Oh A posto Regà Ci siamo E comunque Un poco Di cacao Viene sempre Sprecato Un poco Di cacao Viene sempre Sprecato Sì Ma Guardate Qui Il problema Regà Si bloccano Dovevo capire Come sistemare Sta cosa Guarda Cioè Stra fastidiosa Vabbè Qui basta Facciamo Così Ecco Cioè Rimane Sopra Vediamo Metto Tre Prova a mettere Tre Raga Due Mi sa Di no Perché Comunque Il grano Mi ha usato Il doppio Però Qui ragazzi La farm Di biscotti Sta andando Cioè Qui sta Piottando Quindi Ci siamo Ci siamo Quanti stack Di biscotti Hai fatto Te lo dico Subito Dobbiamo Craftare Questi E E poi Vediamo se ce l'abbiamo Da qualche altra Part Sì Possiamo fare Così Guardate Qui La farm Farm di corrente Va Tutto tranquillo C'è questo Che non ce la fa Ragazzi Questo Dice No Però vabbè Qua continua Qua ragazzi Proprio chill E ne possiamo Attaccare Ancora un altro Anzi Uno e mezzo Quindi abbiamo Un'ottima Farm di corrente Eh Eh Lo so che c'è Nei bauli No Mi serve Un altro Oggetto E Ci stavo pensando Di portare Le ossa Da lì E fare Un sistema Di piccolo Crafting Che fa il bombilla E lo ficca Già dentro Ci stavo Già Pensando No Sto cercando Non c'era Già l'ho visto Sto cercando Non i Nixitube Ma questo Mi serve Tanto per ora Questo qua sotto Proprio Tanto questo Per ora Stica Io penso Aver fatto Adesso la cazzata Più grande del secolo Ragazzi Ho appena Rotto Oh Casso Aspettate Ho appena Fatto esplodere 20 stack Di roba Aspettate Ok Ci siamo Ci siamo Mi rubo Anche questi Però Allora tanto Poi li andiamo A fare No Stasera Non facciamo Pokémon Ragazzi Comunque La farm Minerali Va che è un piacere Farmiamo il call Tutto quanto Qua Bello tranquillo Qua c'è Altro call Ancora Quindi Il problema Non ci sta La Maietta fantastica Ragazzi La trovate Nelle fiere Per ora E E poi Nel Nello store Online Sarà Disponibile Penso Per Oddio Intorno Metà Dicembre Allora Metti un attimo Questo C'abbiamo Altri Di Nixitube Sì Ok Allora Ci serve L'oggetto Che sta Dentro Le chest Che Eccolo Già Ne abbiamo Fatti 7600 Regà 7600 Dobbiamo per forza Potenziare la farm Di Di Tutto Di Tutto Dobbiamo potenziare la farm Di Bom Mial Perché qui che rimane Fermo È Un casino È veramente Un casino Dovremmo fare Tipo Allora Intanto Anche questo qui che è un grosso problema Rimane bloccato lì Mannaggia È buono Demon È buono Oh 777 No Ok Eh Dovremmo Esatto Dobbiamo usare Il bom Mial Fatta dalla farm Questa Per Questo qua Quindi direi Che facciamo una cosa Molto interessante Fatemi capire Una Cosetta Se prendo questi tubi L'attacco qua Ok No No Sto Sto pensando un attimo Che Si è ciucciato Un tubo L'hai risputato Allora Se io vado a collegare La farm Di qua sotto Direttamente lì Quindi Da qui Proprio direttamente Da qui Buonanotte raga Chi va Buonanotte Oddio potrei fare una cosa Altra catapulta qua Facciamo un'altra catapulta Va che c'è frega Ormai l'abbiamo fatta Tutta Bam Catapulta qui Che lo porta Tipo In un punto qua sopra Ok Non so se funzionerà come cosa Allora Chest Ok Allora Allora Secondo me Secondo me sarà una Cavolata Incredibile Però noi Ci crediamo Non so se funziona Non lo so Si si qua è aperto No no Questo qui È aperto Perché mi serve Per un'altra entrata Capito Per un'altra cosa Ok alimentiamo questo Quindi No No Le mie shaftine Shaft Shaft Erano proprio accanto Ok Funnel Sdunk Dentro Vediamo Vediamo se gli dai Buon meal Non penso Oh Ok l'ho dato all'ultimo Ok 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 Funziona Funziona Let's go Ma ne ha portato così poco Ma Ne ha fatto rente così poco Scusami No 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 C'è qualcosa che non quadra Regà Allora O non sono configurati bene Gli altri Perché non può essere Scusate Sdunk Si sta riempiendo questo Ok Si si no Ora metto che va a farmare Tutto il resto Non vi preoccupate E' un test matto Questo Come si fanno Non Per fare altre Copper ladder Copper Ladder Ah Mi chiedono lo stone cutter Madonna Che palle No 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 non c'ho voglia No non c'ho voglia Allora Allora Ma se io Non mi piacciono Mi stanno Mi stanno andando sempre Di roba rotta Direttamente Abbiamo qua noi I funnel Che ho perso Eccoli E li Li facciamo da qui Cioè Se facciamo così Non gli possiamo Fare entrare Dentro la roba Ok Però Testiamo Se io faccio Ok Eh ma volessi fargli passare Il coso Il nastro Come cacchio faccio Anche perché non posso Metterci questo Sopra Non se lo prendo Da solo Il nastro Al posto del legno Qui E ci ha attaccato Il coso Oddio In realtà Non ci ha attaccato Non ci ha attaccato Ok Ok Non sarebbe male Farne un'altra Di manina Però va bene Intanto così Ok Prendiamo questo No Non penso che li prenda No Non li prendo Non li prendo Questo è un problema Oh Oh Mentre che punto Siamo qua Raga 9000 9521 Minchia Eh si bloccano qua I semini Eh Un problema Dovremmo fare Fare questo Fare tipo questo Qua E usare Un magnete Lì fa Una fan che Spinge E non Non la posso Mettere Non posso Allora Deve andare Qui Ok Ok E gli diamo Energia Cioè Rotazione E ma così va al contrario Rotelline Olè Dove ho ristapparlo Ok Eh raga Io inizio Perché qua È pienissimo di grano Io lo cambio un attimo Faccio andare tutto E via Oh È volato Ok 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 Perfetto Metti che spinge Come il nastro Tiro No ma Ma va benissimo così Eccoci qua Il problema Veramente Ci ha messo il semino Sopra Raga Mannaggia Fastidio Metti botole Qui dici Non ho botole Cioè Posso crearle E vedere se ci sono Se ha senso con le botole Cioè le craft al volo Non è un problema Le facciamo pure Di giungla Che ho messe Così Oddio non so che succede Così eh Vediamo Minchia proprio sopra Finisce Raga Prova la cosa peggiore Dobbiamo metterle tipo Così allora Ecco Forse così Vabbè tanto Andiamo a preghiare dentro il coso Ok Vediamo Vediamo che combiniamo Ok Beh Sembra Andare Sembrerebbe Arriva il bom meal Fa tutto Io qua direi Allora che Qui come è messo Ok Qua ragazzi Facciamo andare noi Quattro Di grano Quattro di grano Alla volta E qui va La cosa è L'opera Che fa proprio Ma non c'è un Sì Bom meal Come cazzo Allora si può fare meglio Cioè più velocemente Eh Le ossa Le possiamo far sminuzzare E ne da Tre Ha tre Ha tre Il colorante E il 25% Che ne da il doppio Buono Ma scusami In tutto ciò C'è Non c'è Il Si è rotto Il coso Del grano No sta andando Sta andando C'è questo qui che non va Lo so Basta metterci questo Qual è Ed è il busto No il fatto è Scusatemi eh Bom meal C'è Non ci dà Il Il crafting Normale Il Quello tramite il coso C'è che scammata Bene Potremmo metterci La milling E Portargli le ossa Che le farm Ma come c'è finito Questo qua Non c'ho parole Non c'ho proprio parole Raga Allora Noi qua ci siamo Secondo me Secondo me siamo Più che a posto Qua sta andando Qua lo facciamo Smezzare Letteralmente E' fine E' lento E' lento il coso L'hopper E' lento proprio l'hopper E' per le ossa Si ma il problema E' Come possiamo rendere Bom meal Il resto No c'ho Il ciute c'è Il ciute Non funziona Il coso C'è Già provato Guarda Ti faccio vedere Lo riproviamo Per sicurezza Perché queste sono Un abboio Guarda Stufa così Prendi il ciute Ok Magari ci metti Il grano Baby Non lo fa E' niente C'è una cosa Un altissima Percentuale Ah ok Il cibo Ci dite che porta A molti opere Così farm Eh Dovremmo fare La farm Di bom meal A parte Raga Datemi un attimo Un secondo Che vado a volo In bagno Arrivo subitissimo Arrivo subito Non lo fa L' 1950 to no Detta che vuole E' niente Aspet� Di bom Il cibo Il cibo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Eccomi. Ma... C'è la cassa di mele con 100%. Eh, lo so, ma... Non risolvi nulla. Ve lo assicuro, raga. C'è, calcolate che qui... Raga, qui è pienissimo. Bisogna per forza farmare un bot di Bonneal. Ma per forza. Cioè, questo qui non basta. Ce ne servono almeno due. Allora. Il fatto è che per la velocità di come va tutto... Ok. Eh, il problema... Ah, dovremmo fare così. Mamma mia, quanta roba. Fare tipo in questo modo. Rimettere questo qua. E portarlo qui, per ora. Con questo. Messo qui. Il problema è che noi gli possiamo dare la... Me l'ho fatta per bene. Ok. O anche da dietro. Eh, no, no, no. Perché dobbiamo passargli questo qui qua. Quindi, diciamo... Abbastanza inutile. Mica, ragazzi. Aspetta, c'è un... Proprio... Ma un bot di roba. Mamma mia. Ma tutti questi stick dove cacchi li ho tirati fuori? No, 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 no. Ma porca. No, dove mica è finito? Raga, aspettate. Ho perso il coso. Ma chi me l'ha lanciato? Dove cazzo è finito? Oh no. Vabbè. Non andiamo a far... Ne facciamo... Ah, eccolo. Ok. E praticamente ora cambiamo tutto in questo modo. Sbam. Doppia chest. Doppia chest. Doppio hopper di nuovo, naturalmente. Quindi... Altra chest. Così almeno è il doppio più veloce. Ecco. Così quello configuriamo tutti i semini e quello configuriamo con il coso. Con il grano. Casomai. No, il ciute non posso... Cioè sì, posso metterci il ciute direttamente, ma sti cacchi, cioè non cambia tantissimo la nostra situazione. Cioè sì, non cambia tantissimo la nostra situazione. Oh. Eh, è configurato male. Ok. Ok. E... Dobbiamo mettere adesso questa roba là dentro. Io... Io non lo faccio. Io non lo faccio. Io non lo faccio. Ma equivale a otto laurea. Di più, di più, bro. Di più. Ho voglia. Ma come va mentre... Qua ancora, ragazzi, il grano arriva tranquillo. Allora. Qui gli dà il buon meal. E ci sta. E la produzione non mi sembra neanche tanto lenta, eh. Anzi. Secondo me questo qui lo porterò qua dentro, ora. È l'unica. Tipo così. Anzi. Stiamo a togliere tutti gli oggetti. Da qui. Bella pulizia contatti. E via. Allora. Allora, ciurma. Eccoci qua. Abbiamo un botto di cose. Intanto, altra catapulta che porta il buon meal. Ok. In modo che dà uno sprint in più alla farmia di cacao. Anche se c'è questo problema fastidiosissimo. Ok. Poi, cosa abbiamo ancora? Doppio composter. In questo modo. Qua ne ho a dividere un po' di grano. Che va qui. Che basta e avanza. Ok. Tutto il resto diventa buon meal per farmare più cacao. Che adesso ce l'ho sputato qui davanti. Datemi una mano, per favore. Mentre per il resto, qui faremo poi un giorno seconda fila di braccini. E ragazzi, siamo già a quota 11.000 biscotti. Insomma, ci siamo. Eh, ma raga, non è fare quattro composter. Cioè... È proprio che è lento questo. Cioè... È incredibile. È proprio questo che è lento. Qua dovremmo fare tipo grano. Capire in sto modo. E qui farma. Cioè... Farma poco alla volta. Ogni ricarica ne droppa uno. Che dà il bustettino e via. Il problema è che quasi si inchiomma. Allora, essendo a me ragazzi, per farmare... Aia. Pesso la corrente non so come. Allora, per farmare il milione... Non ci metteremo tanto. Basta fare... Tantissimi altri vault. Quindi, easy. Insomma, ci siamo. E la cosa, appunto, è il cacao. Perché, allora, i cookie... Volete o non volete, si fanno per forza con il cacao. I cocoa beans si fa... Con, appunto, niente. Con nient'altro. Cioè, con questo è basta. Non è alternativa. Eh, ma il problema è di più che finisce qua sopra. Cioè, questo è il problema. Finisce sopra alla piantina di cacao. Cioè, qui il cacao, ragazzi. Sì, manco il tempo di entrare che già è fuori. È proprio lenta la farm di cacao. Fa anche spinge verso destra. Tipo una ventolina qui che spinge. Ce l'abbiamo, le ventolina. Proviamo. Abbiamo anche altre trap, d'ora di verità. Ma non penso che... Torneranno utili. Ma se noi ci mettiamo queste. Vediamo. Cioè, tu dici... No. Me l'ha inculata. Ma... Ma trolla? Ok. Oddio, raga. C'è una trap da qua sopra. Allora. Dobbiamo dargli la... L'energia. Oddio, banalmente potremmo staccare un attimo il motorino. Easy. Però non so che rotazione prenderà. Ve lo dico. Potrebbe prendere la rotazione un po' del cazzo. Ah, aspetta, aspetta. Possiamo sempre usare questi. Non li trovo mai. Ah, vabbè. Prendiamo questo. Ah, minchia. A voi che non li trovavo. Tutti qua dentro erano. No. L'unico verso come... Eh, vabbè. Cioè, l'unico verso che non gira l'ho scelto io. Eh, non so se la fanno in basso. E allora la... La si mette anche qui. Ma vediamo se funziona, allora. Perché a sto punto... Si brasa questo. Vabbè, oddio. Anche una più avanti va bene, eh. Facciamo... Testerino. Ok. Questo. E qua... Questo qui. Olè! Sta... Sta ciucciando. Così ciuccia, mi sa. Proviamo a mano. Sì. Lo... Lo ciucci indietro. Però funziona. E a noi va benissimo. Guarda, guarda, guarda. Funziona. Ok. 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 Ci va bene. Sotto le serre così da trasportare gli semi direttamente dentro le composter. Allora. E sotto non è output. Sotto non è output, purtroppo. Già provato nell'essere perino di test. Cioè nel mondo di test. Non è output sotto. Comunque si sta facendo piano piano. Dovremmo aumentare la velocità di questo. Ecco. Ok. Qua mentre farm... 12.000. No, raga, aspetta. Non ce la fa la corrente. Non ce la fa qui la corrente. Abbassiamo. E' da ogni tanto la botta che si ferma. Eh sì. Aspetta. 48. Perché qua è condiviso tutta la corrente. Anche sotto. No, le botte le qua le ho messe. Già, ho già fatto tutto, raga. Bevo, bevo. Anche, raga, farmiamo veramente... Un botto di coso. Sono troppo lenti sti cazzo di cosi. Di hopper. Troppo lenti. Per farmare i bombial. Cioè, sono proprio lenti, lenti, lenti. E per velocizzarli... Non abbiamo tanta scelta, eh. I chute con pipe li possiamo usare? Sì. Questo è interessante. Metti tanti cart con hopper insieme allo stesso blocco. Eh, non so se... Realmente funziona. Per dire la verità, eh. Mi sa che non funziona. Ho... Questo presentimento. Io potrei riprovare a fare una cosa. Dubito, eh. Dubito fortemente. Appunto. Cioè, non li prende. Vedi? Lo avete come hopper? E... E no, l'hopper deve essere per forza sopra. Ah, questo. No, regà, non c'è tanta alternativa. Dovremmo fare qui appositamente una farm secondaria. In qualche modo. I chute e i pipe. E non... Non va. Cioè, non entra dentro il coso. Il composter. Quello è il problema. Se io posso provare, ma... Dov'è, dov'è? Se io metto questo qua. Così. Così. Allora. Però è molto lento. Rispetto a questo... È molto lento. È più lento. Ma quello che dico io... Allora, scusami. Perché... Questo non direttamente. Scusa. Cioè, non ha senso. Vabbè, allora... Scusami un attimo, allora, eh. Scusa. Dov'è? Cioè, io allora posso fare anche una cosa. A sto punto. Allora. Toh. Olè. Ok. No, si riusciati. No, no. Ma lanciate il composter. La volpe colpisce ancora. Ma vediamo, ma vediamo, allora. Perché potrebbe essere abbastanza interessante come cosa. Perché noi possiamo fare, allora. Che fa così. In questo modo. Olè. Così. Regà, dovrebbe essere più veloce. Eh, sì. Ne fa tre a botta. Quattro a botta, eh. Assuro, perché? Ragazzi, è appena esploso un tubo. Troppi oggetti. È tipo esploso. Minchia, è esploso. No, raga. Aspettate, è esploso il coso. Mettete i quattro composti e sei a posto. Allora. Facciamo che questo va qua. Altro composter qui. Tanto va bene, non dovrebbe essere un problema. Servono altri due hopper. Serve ferro. Andiamo a prendere il ferro. Ho preso il letta plano. Ah, eccolo. No, se ne mettiamo... Mettiamo più... Composter. Non dovrebbe esplodere? Non dovrebbe? Non lo so. Potrebbe. Non l'hai detto. Is. Is. Olè. Oplà. Ah. Allora. Olè. Queste sono tutte chest. Che diventano subito tutti hopper. Oplà. Hopper. Ok. Ok. E no. E no. Se si collega qua è tutto una puttana. Cazzo. Metti tubi della create. Non ci sono tubi che portano oggetti della create. Solo liquidi. Solo liquidi. Allora. Raga. Non so che può capitare. Al massimo esplode. Ve lo dico, eh. Ok. Arriva. Due. Perché solo due? Quattro, sei. Ok. Non sembra avere grossi problemi. Adesso ho messo l'unico coso che se lo va a prendere. Incredibile. Tei tubi di vetro costituenti più agli alti. Ma non posso farli in vetro. Sono dei tubi in vetro? Che non conosco. No. Non ci sono. No. No. Buoh, raga. Oh, che è successo qui? Orco. Eh, raga, qua c'è problema. Minchia, si è fullato tutto. Ok. Almeno entra il cacao. Oh. Raga, matto. Ok, però sta reggendo la farm, eh. Guarda. Però ora il grano non salta più via. Eh, non c'è bisogno per ora, a quanto pare. Non c'è bisogno. Ce ne c'è abbastanza. Lo sto addirittura togliendo io, ora a mano. Allora. Abbiamo pure fullo di nuovo zainetto. Incredibile. Ok, non sta esplodendo. Ed è la cosa buona questa. Noi qui facciamo che lancia veramente. Due le dovrebbe lanciare. Due. Due basta. Quindi tipo, io farei così. E mettiamo due. Perché secondo me, basta e avanza. Qui si è pianato tantissimo. Allora, così. Se vi ho velocizzato tanto la farm. Questo poco mi assicuro. Servirebbe un bel boost di bom meal. Però adesso la farm è lenta. Ok. E ora sta andando un pochettino lenta. Non ci sono i tubi della Create. Non ci sono. Non ci sono i tubi che portano oggetti della Create. Ok. Niente, raga. Qua il cacao è sempre una cosa che mancherà rispetto al grano. Però ora forse si bilancia tutto, eh. Olè. Oddio, guarda il grano qui come fa. Però fa come un pazzo. Oddio. Oh, però arriva a botta di 8, 10, 11 bom meal. Guarda. È buono, è buono. 26. 34. Vediamo se aumenta. Dubito, eh. Oddio, 45. Micchia, raga. Va a seconda manina col bom meal è a posto. Buonate, raga. Chi va via? È anche a mezzanotte. Tra poco vi saluto anche io. 64. Bam. Due manine col bom meal. Ok. Tutto torna adesso come prima, raga. 15.000. Metti che le manine prendono massimo 15 di bom meal. Ok. Al suo perché, devo dire. Beh, oddio, ti direi. No, mi sape non puoi manco cambiarlo. No, non puoi cambiarlo, la quantità. Non puoi. Eh, rip. Nel funnel dietro. Hai ragione. Allora, servirebbe però. Oh. No. Eh, me l'ha ciucciato. No. Eh. Preso. Allora, io faccio che questo qui ne prende. Guarda. Faccio che ne prendo massimo tre. Allora. Tipo tre. Tre. E l'ultimo ne prende tutto. Capito? Così, bene o male, è sempre... Cioè, viene smistato per bene. Ah, no. Così proprio prende... No, no, no. No, così, ragazzi, non va. Così ne prende soltanto se sono tre. Quindi, in realtà, se uno... Ah, beh, se uno va nell'ultimo, in sti cazzi, eh. E via. Oh. Raga, ma questo? Ok. A posto. Dai una bustatina con le ossa. Eh. La famo così. Eh, ma qua tutto, ragazzi, è questione della... Cioè, qua il grano è bello inchiommato. Eh, è qui che è un po' lento. Ma io posso fare, tipo... Me ne droppo quando sono... 20, a botta. Così almeno arriva a botta di 20. 20. 20. No, 21. 20. Eh, perché così lo tiene almeno dentro. Se no, si ferma tutto per un solo... Cosa che la... Che droppa. Ecco. Eh, guarda. Guarda avanti... Eh. Raga. Fatto. Visto? Oh, sta andando tutti col bombiale, regà. Buono. Guarda, guarda. Io qua veramente, ragazzi, fare soltanto una cosa. Giro. Facciamo che ne droppa... Veramente tre. Quando ne ha tre... Le droppa qua dentro. Vedi, arrivano 20. Le droppa tre, chi lancia qui, alla farm? E gli bastano e avanzano. Anzi, forse lo possiamo fare che è... 16. Per chi gli arriva la botta, prende 16, e poi dopo c'è il shoot. Che sono quelli che gli bastano. Eh, il bombino gli ha dato un bel boost. Confermato. Ok. Raga, bello. Ci siamo, ci siamo. Eh, raga. Qua, la farm è a pieno regime ormai. Stiamo farmando e... Vediamo adesso quando arriveremo poi a un milione. Il bombino in gruppi da sei? Eh, qua manco arriva. Qua è finito. Perché fin quando qua non arrivano... A venti... Non fa... Molto. Ma io a sto punto scusi. Cioè, posso... Cioè, che succede se faccio così? Che, allora era giusto... A tre. Perché io i test li avevo fatti. Era giusto. Vediamo. No, secondo me... Anche di meno. Dai che serve i bombi al... Dai che...